Ora come la mettiamo? Come la mettiamo ora? Questo video qua ora è rivolto a tanti imbecilli che circolano sul web. Come la mettiamo adesso? Sfanculati da settimana in settimana. Un'altra volta tre passaggi che hanno portato al gol di chi? Di Suso. Cosa fa Cana Loglo? Cosa fa? Nessuno osa criticare Cana Loglo. Ma mi criticano Suso. Adesso di nuovo Suso vi ha di nuovo perculati per l'ennesima volta. Tre gol del Milan, tre passaggi di Suso. Tre passaggi di Suso. Questo video sapete perché lo inizio così? Perché sono stato buttato fuori da un gruppo di milanisti. Sì, ovviamente non tutti, però c'è stato un coglione praticamente. Uno aveva postato la notizia che adesso il Milan ha probabilmente, molto probabile, quasi accertato che al gennaio arriverà un certo Paqueta, o Paqueta non so come si pronuncia esattamente, un giocatore che è un brasiliano che gioca ancora in Brasile, di cui io credo che possa avere delle grandi potenzialità. Ovviamente sempre si tratta di un giocatore di potenziale, ma quando acquisto un giocatore giovane si tratta sempre di potenziale, non è una conferma. E avevo detto, guardate, avete visto ragazzi, come vi ho detto tante cose, vi ho detto anche, chi si ricorda, chi mi segue, avevo detto ragazzi, piano piano che questo calciomercato, l'avevo detto a pochi giorni che finisse il calciomercato, questo calciomercato sicuramente non arriverà più nessuno, infatti poi non arrivò più nessuno, ma tranquilli perché a gennaio qualche colpo lo faremo, per questo anche la mia speranza che dico lì in mezzo al quarto posto ci possiamo immischiare, perché a gennaio qualche colpo lo faremo, pof, patapom, stiamo sulle tracce di Paqueta, anche di Brian mi non ci ha sentito, non lo so, però questo è già un nome che si sta facendo adesso, può darsi che anche verrà un altro colpo a gennaio, perché i colpi si faranno d'ora in poi, e niente ho scritto, avete visto anche lì avevo detto che arriva Paqueta, eh ma chi è Paqueta, chi giocatori abbiamo, sempre a criticare questi che non capiscono un cazzo di calcio, perché anche nel video ho detto piano piano che ritorneremo, eh lo dicono da sei anni, ci ho detto alt, alt, io non sono da sei anni sul web, sono da un anno sul web, e se lo fossi stato non avrei mai detto una roba del genere, perché non posso paragonare questo Milan, che ancora anche io sempre sono il primo a dire che non è il grande Milan, a quel Milan di un paio di anni fa che è ancora più monnezza ancora di questo Milan diciamo, che abbiamo avuto un Milan scandaloso con giocatori tipo Zapata, Montolivo, Bertolacci, eccetera eccetera, non voglio elencargli tutti i bidoni, Antonelli, io ho detto con questi giocatori è normale, adesso qualcuno buono ce l'abbiamo, mi fa, eh sì, eh, tipo a tutto tempo a sfotte, no? Con le risate, tipo, sì, che sono, un po' di più, ci ho detto altri, intanto dico c'abbiamo Iguain, Coutrone, Suso, da voi sempre criticato, e poi ho detto che sì, potenzialmente, perché io sono stato anche uno di quelli che ha detto che sì, reputo che abbia una grande potenzialità, però sono stato anche io molto critico nei suoi riguardi, perché proprio a maggior ragione, perché credo molto in lui, che ha visto il mio video sfogo dopo la finale di Coppa Italia, ho detto basta, via che sì, mi hai deluso, perché vuol dire che ci credo in questo giocatore, ho detto che sì, potenzialmente, è Bonaventura, l'ho messo pure, e mi fa, eh che sì è Bonaventura, mi sfotte, tipo, e insomma tutto, ma sfotte, io ho risposto, vabbè, l'importante è che non sono così incompetente come te, perché voi siete gente, chi si lamenta così, che non capisce il lavoro, non capisce quello che dico, dico che il Milan potenzialmente può risalire con un paio di innesti aggiunti, qualcuno di elemento buono c'è, ma c'è, ci deve essere sempre un lavoro comunque, questi invece conoscono solo, buono, cattivo, cambiamo subito, facciamo subito, da un anno il Milan deve diventare la grande squadra, secondo loro, perché non capiscono il lavoro, mi risponde, ci ho detto poi il detto in siciliano, bifaracadimimucca, cosa mi risponde? Ammamet, a me mi dice ammamet, pezzo di rincoglionito, coglione, è uguale che età hai, queste cose non le faccio passare a nessuno, rispetto delle mamme, ho rispetto delle mamme e voglio anche rispettata la mia, chi osa nominare mia madre, a colui gli do il fuoco e non mi interessa chi cazzo sia, può essere il padre eterno, gli do fuoco, non me ne frega nulla, non ho paura di nessuno, quindi, e poi di lì sono stato cacciato fuori, ma sono contento, e quindi questo video è rivolto a questi coglioni che non capiscono un cazzo di calcio, perché la massa è così, adesso di nuovo perculati, sfanculati, tre partite di fila ha vinto Gattuso, ora certuni verranno con chi hai vinto, però intanto li ha vinte le partite, e prima anche avevamo solo pareggiato, e nuovamente Suso fa tre assist che portano al gol, mentre Cianaloglu, da me sempre criticato, perché ve l'ho detto, Cianaloglu è bravo, sa toccare la palla, eccetera, ma non è concreto, non è un giocatore da Milan, non ci porterà mai, è inutile che credete in Cianaloglu, Cianaloglu non è il giocatore di personalità, di qualità, che saprà darci qualcosa in più, non so adesso nemmeno trovare le parole, come ve lo devo spiegare in italiano, comunque Cianaloglu è, ricollegando ora all'acquisto che si farà a gennaio con Pacheta, è un giocatore che molto probabilmente andrà a sostituire Cianaloglu come posizione, come la mettiamo? Come la mettiamo questa? Massa di caproni e soprattutto imparate l'educazione, potevi attaccare me, mi potevi dire a me imbecille e tutto quanto, ma mia madre non la tocca nessuno, nessuno si deve permettere di toccare mia madre, hai capito? quindi, e poi ovviamente ho cercato pure di telefonarlo, però scappano poi via, ci ho detto ci metti la faccia, vediamo, comunque questo è il quanto, quindi questo video dedicato a questi coglioni che non capiscono di calcio, non è per tutti, questo non è dedicato a tutti perché ci sono anche parecchie gente, specialmente chi segue il mio canale, so che sono gente che capisce di calcio, che sa che le cose hanno bisogno del tempo, però sono questi ingrati che criticano subito, buttano subito delle merda appena una partita non va, è rivolto proprio a questi, di nuovo siete stati sfanculati, perculati, da Gattuso e da Suso e Iguain come sempre, grande centravanti, riesce a mettere la palla sempre dentro, grande Iguain sono contento di questo acquisto, forza Milan, forza ragazzi e ci vediamo al prossimo video, ciao come si staccano